Buongiorno, oggi ripasseremo un argomento che abbiamo visto all'inizio dell'anno e cioè il lettering. Che cos'è e qual è la differenza con la calligrafia? Facciamo questo ripasso perché ho visto che nei lavori la questione del lettering è un po' carente quindi voglio che sempre ai fini dell'esame ti sia ben chiaro e tu rafforzi questo punto. Nel mondo della grafica il lettering è un termine diffuso però in altri contesti è abusato e confuso con quelli di calligrafia e tipografia. La differenza tra questi tre concetti e in particolare tra i primi due è di fatti piuttosto sottile soprattutto perché agendo tutti nello stesso contesto sono strettamente correlati gli uni agli altri. Probabilmente tutti ci siamo imbattuti in questi termini più di una volta senza però riuscire ad avere un'idea chiara di cosa rappresentino effettivamente. Vediamo allora di definire meglio il lettering e il significato di questo termine chiarendo il suo rapporto con la tipografia e la sua differenza con la calligrafia. Traducendo dall'inglese all'italiano la parola lettering grazie all'uso di un dizionario i risultati che avremo saranno quelli di scrittura, iscrizione e scritto ma anche di carattere. Tutti questi termini fanno senza dubbio riferimento all'arte della scrittura però è anche vero che restituiscono un concetto piuttosto vago visto anche la differenza di significato tra alcuni di loro. In realtà il termine lettering ha un significato ben più profondo e complesso in quanto tale parola definisce un vero e proprio studio delle lettere per la realizzazione del loro disegno connotandone così una funzione artistica a tutti gli effetti e non di mera scrittura. A tutto questo però si deve aggiungere il principio di perfetta riproducibilità che le lettere disegnate devono avere principio fondamentale per chiarire il lettering ed il suo significato rispetto a quello della calligrafia ogni carattere dovrà infatti avere la caratteristica di poter essere riprodotto in qualsiasi momento in modo identico presupponendo così l'utilizzo di software grafici di disegno digitale e di stampa E' proprio questa la peculiarità che rende la grafica e il lettering così uniti tra loro e che distingue quest'ultimo dalla calligrafia dove la realizzazione delle lettere invece è sempre frutto del disegno a mano libera ed ha così una valenza prettamente artistica A lettering e alla grafica è poi collegato un altro concetto che è quello di tipografia Attraverso questo termine si esprime lo studio dell'interazione tra i diversi caratteri e tra questi e le superfici su cui sono riportati presupponendo però sempre la possibilità di una riproduzione in un sistema di stampa Proprio questo aspetto quindi esclude la calligrafia da un rapporto con la tipografia Gli studi tipografici hanno pertanto l'obiettivo di creare equilibrio tra i differenti caratteri Scegliendo e combinando quelli con il giusto lettering per ottenere un prodotto grafico che sia in grado di comunicare un messaggio ma anche di essere apprezzato graficamente Quindi i tre termini sono molto legati tra loro ma si differenziano per alcune loro caratteristiche La calligrafia è un vero e proprio esercizio di stile il cui obiettivo è prevalentemente artistico mentre il lettering ha un significato e una funzione più vicini alla vera e propria comunicazione di un messaggio durante la quale la componente grafica non deve essere tralasciata con la tipografia che gioca di conseguenza un ruolo fondamentale proprio in questo Questa è la cosa che mi sembra di averti sempre detto proprio l'importanza del lettering Ecco, questo è un breve escursus sulla definizione e sulle caratteristiche del lettering Con questo ho terminato, ti saluto e ti auguro buona giornata Ciao!